Abbiamo pensato subito si trattasse di un terremoto, così i residenti dell'abitazione, contro cui la scorsa notte si è schiantata un'automobile a fiume freddo di Sicilia, hanno definito il fragore che ha sconvolto una serena serata estiva. Erano circa le 23 di ieri, quando il conducente di una Peugeot 206 grigia, che viaggiava in direzione Messina-Catania, ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare e facendo testa coda è salito sul marciapiede per andare a finire contro il muro e la cancellata della casa sita al civico 189 di via Marconi, nel quartiere Gona, fiume freddo di Sicilia. La vettura, che viaggiava a velocità sostenuta, pare a circa 140 km orari, nell'impatto con il muro ha perso l'intero motore, che è sbalzato nel cortile dell'abitazione. A bordo della Peugeot 206, la cui parte anteriore è stata completamente distrutta, viaggiava un 27enne giarrese di ritorno da casa dell'ex compagna residente a fiume freddo. Il terribile schianto, a causa dei pezzi di muro trasformati in schegge, ha danneggiato anche la saracinesca della casa teatro dell'incidente. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri del Norm di Giarre, che hanno regolato la viabilità ed effettuato i rilievi, anche i vigili del fuoco del distaccamento di riposto, che rimuovendo la cancellata rimasta come sospesa, hanno messo in sicurezza il perimetro. Il mezzo, risultato privo di assicurazione, è stato posto sotto sequestro. Due le ambulanze intervenute sul posto. I soccorritori hanno estratto il giovane dall'abitacolo, per fortuna rimasto soltanto ferito, e neanche gravemente, e lo hanno trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Dove è arrivato intorno a mezzanotte, in codice giallo, giudicato non in pericolo di vita. Al giovane è stato diagnosticato un politrauma non grave, e attualmente si trova in osservazione nell'area dell'emergenza urgenza. Tutto quindi per stavolta si è concluso soltanto con un grande spavento, e nessun morto o ferito grave, grazie soprattutto alla casualità che in quel momento non stessero transitando altri veicoli, né pedoni, che sarebbero stati uccisi dall'automobile, che, lo ricordiamo, è finita dentro l'abitazione in questione. Questo tratto di via Marconi non è del resto nuovo a questo genere di incidenti stradali, causati dall'alta velocità. Ci si chiede ancora una volta, dati i tanti incidenti che in passato sono stati anche mortali, se non sia necessaria la tanto discussa attivazione dell'autovelox, già peraltro predisposto lungo il segmento stradale in cui è avvenuto l'incidente, o se si dovrà attendere l'irreparabile.